e il diritto di parte dei cittadini di essere informati, che è la riforma cartabia. Cioè noi nel 2025 a gennaio non potremmo più parlare di imputati, di processi che verranno con il meccanismo dell'improcedibilità, verranno cessati, moriranno, non potremmo parlare dei loro nomi, non potremmo parlare dei reati. Cioè noi improvvisamente a gennaio del 2025 ci sveglieremo in un paese migliore, senza colpevoli, senza aver fatto un cazzo per meritarcelo. Questo è il problema vero. E come è l'oblio di Stato, la desertificazione dell'informazione, questo ci porterà a quello. Noi ogni giorno facciamo i conti, penso anche voi in redazione con la richiesta del diritto all'oblio. Noi il report non cancelliamo un'inchiesta, ce l'abbiamo tutte classificate, tutte trascritte, i nomi stanno ancora lì proprio perché è un diritto stabilito dalla Corte Europea che l'archivio delle informazioni è un bene della collettività, non è un bene del singolo. E quindi rispondiamo. È un po' come quando, se dovesse passare questa riforma quando entri in un cimitero, vedi madre, la lapide madre è onestissima, padre è esemplare, uno dice mai chiede né mignotta, non l'hanno seppelliti. Perché questo poi è la conseguenza di tutto questo.